E' la Sofia Ricci e Stefano Mainetti, vedervi è imprescindibile il connubio cinema-musica Eh, hai visto? Questo sì che... Approfittiamo, come no? Perché ci sarà questa bellissima iniziativa anche di ACMF che è l'associazione dei compositori di musica per film e il 28 sera ci sarà un concerto di musica da film ognuno di noi farà un pezzo proprio dedicato alla musica da film Il connubio, non a caso Il più protagonista è lui di me, io sono soltanto qua a fare l'attrice invece lui avrà la serata finale insieme ai suoi colleghi brevissimi Cinema, che festival ti aspetti di vivere e di vedere quest'anno? Beh, un festival, una festa piena di bei film, piena di bella gente, di autori, di persone veramente interessanti e straordinarie e tanti belli incontri, gli incontri che ci sono, le masterclass con i giovani con chi il cinema lo continuerà a fare quando servirà qualche vecchia bacuca Non lo dire, sei, sei, sei meravigliosa Servirà, infatti, quando entra moltissimi anni Buona festa del cinema, grazie 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 Grazie